E' molto semplice, c'è una strada su cui abbiamo dirottato, che abbiamo realizzato in un mese esatto, quasi tutto il traffico pesante tra i porti di Volti e il porto vecchio di Genova. Su questa strada c'è un ponte che oggi è piuttosto angusto e consente un traffico più difficoltoso dei mezzi pesanti. L'idea dell'amministrazione era addoppiarlo per creare un secondo ponte che consente un traffico più fluido e su questo più i cantieri, che hanno un importante know-how nella carpenteria metallica pesante, può dare una rossa valore.